Benvenuti tifosi napoletani! Oggi porteremo le ultime conferme che riguardano il futuro del giocatore nigeriano Viktor Osiem. Se sei nuovo qui, iscriviti al canale e resta sintonizzato per gli aggiornamenti sul Napoli. L'attaccante Viktor Osiem rimane un nome ricercato. Tuttavia, nelle ultime ore, c'è stato un sorprendente colpo di scena in questa storia. Il Bayern Monaco sembra aver abbandonato la corsa per firmare Osiem. L'obiettivo principale del club in questo momento è Harry Kane del Tottenham. E secondo lo stesso attaccante nigeriano, che ha risposto alle voci sulla sua partenza, ha commentato al portale nigeriano Sochernet. «Ho lavorato sodo per vincere un trofeo e ora ne voglio ancora. È diventata una dipendenza», ha detto scherzando l'attaccante. «Lo scudetto è stato il mio primo titolo, non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e voglio vincerlo ancora». Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha già espresso la volontà di mantenere l'Osiem, dove è in corso di definizione il rinnovo del contratto e l'inserimento di una clausola. E tutto fa pensare che il Napoli accetterebbe solo una proposta record da almeno 180 milioni di euro per il giocatore. Allora tifoso, cosa ne pensi della dichiarazione del giocatore sulla sua voglia di vincere più trofei per il Napoli? Commenta qui sotto e assicurati di iscriverti al canale e attivare le notifiche in modo da non perdere nessuna notizia.